Un tema di cui si è tanto sentito parlare negli scorsi giorni è quello che riguarda il concordato preventivo biennale e anche il ravvedimento speciale che vede interessati tutti i possessori di partita IVA. Di questo di tanto altro parleremo questa mattina in compagnia del nostro prossimo ospite, quindi do il benvenuto a Vincenzo Tibi, consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Ecco sono tanti come dicevo gli argomenti di cui discutere soprattutto in questo periodo, ad esempio nominavo il tema legato al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale. Prima quindi di addentrarci proprio nell'argomento facciamo un po' di chiarezza su cosa si intende quando si parla di questo argomento. Cosa si intende? È un patto con il fisco che il contribuente può sottoscrivere per gli anni di imposta 2024-2025. Quindi soggetti con partita IVA possono sottoscrivere un patto e determinare un reddito sulla base di una proposta che viene fatta dall'amministrazione finanziaria e pagare un'imposta, diciamo, flat, diciamo così, un'imposta sostitutiva che può variare dal 10, 12 o 15% dipende poi dai punteggi che si ottengono attraverso l'analisi dell'indicatore sintetico di affidabilità. Ecco un argomento questo anche molto delicato, la cui richiesta è prossima anche alla scadenza perché lo ricordiamo scade il prossimo giovedì 31 ottobre. Dopodomani. Esatto, quindi i sindacati, chiaramente dei commercialisti, hanno richiesto anche una proroga che non è stata al momento concessa. Come mai è così importante e quale crede sia lo scenario? Ma allora, sicuramente è stata richiesta una proroga sia da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Aspetti Contabili e sia dalle sigle sindacali, le più rappresentative, si è richiesta una proroga perché obiettivamente ci sono delle condizioni di incertezza sull'applicazione di questo istituto, ma c'è un pregiudizio a monte, non viene rispettato un criterio di progressività, quindi c'è troppo una tendenza a rendere flat il rapporto impositivo con il contribuente. E poi soprattutto non c'è contraddittorio, cioè della serie ti propino questo dato, o accetti, o è la cosa ancora più grave, o accetti, o altrimenti sarai sottoposto ad un controllo, quindi il tuo nome non aderendo al concordato preventivo biennale, entrerai automaticamente in una lista di futuri presunti controllati. Allora questo onestamente non favorisce quello che è un adempimento spontaneo. Quindi ci sono dei presupposti, diciamo anche un po' così, l'analisi, io non sento in persone parlare, non c'è un'adesione di massa al concordato preventivo biennale, non c'è stata un'adesione totale, una consapevolezza di un istituto che veramente poteva essere favorevole al contribuente. È chiaro che c'è stata un po' di levata di scudi e quindi chiaramente i commercialisti si asterranno nei prossimi giorni. C'è stata una criticità, diciamo. Ecco, e legati al tema del concordato biennale c'è anche quello del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. Esattamente. Allora, sono due studi diversi. Io vorrei fare però un passo indietro, perché diciamo che il presupposto fondamentale è l'analisi degli indicatori sintetici di affidabilità. Cosa sono gli indicatori sintetici di affidabilità? È un punteggio che viene dato ad un contribuente sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione dei redditi. Cioè, la faccio breve, non voglio essere troppo nozionista perché non vorrei tediare i telespettatori. Il soggetto IVA, il possessore di partita IVA, presenta la dichiarazione dei redditi. Quei dati presenti in dichiarazione dei redditi sono sottoposti ad una sorta di verifica di affidabilità. Ecco, gli indicatori sintetici di affidabilità. Quella verifica da dei punteggi. Quindi dall'8 al 10, dal 6 all'8, dall'inferiore al 6. E questi punteggi degli indicatori sintetici di affidabilità fanno poi scattare l'imposta sostitutiva. Quindi sarà 10, 12 o 15% a seconda. Se ho un punteggio da 8 a 10, da 6 a 8, inferiore a 6. Quindi, sul concordato preventivo biennale, lo Stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, fornisce una proposta, appunto, di adesione. E dice, secondo me, tu per il 2024-2025, facendo una proiezione dei redditi dichiarati nel corso degli anni, hai praticamente questo reddito sul quale dovrai pagare questa imposta, sulla base poi dei punteggi che hai avuto. Cosa diversa, invece, è il ravvedimento speciale. Perché il ravvedimento speciale è la possibilità, diciamo, che fornisce sempre questa normativa italiana di decentissima emanazione, tra l'altro, di, diciamo, evitare che possano essere rettificate le dichiarazioni dei redditi, quindi, diciamo, controllare le dichiarazioni è rettificata. Quindi, questa, c'è una preclusione, aderire al ravvedimento speciale, c'è la possibilità di non vedersi poi rettificare i dati sulla base dei controlli dell'amministrazione finanziaria. Come funziona? Sempre sulla base, diciamo, dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, viene, diciamo, aggiunto un surplus, quindi c'è un aumento del reddito sempre sulla base dei punteggi, gli indicatori estetici di affidabilità, dal 5 al 50%, dipende dal voto sempre dell'indicatore estetici di affidabilità ottenuto in serie di ereditioni dei redditi. C'è questo aumento e su questo aumento viene calcolata l'imposta costitutiva che varia sempre in base ai punteggi dal 10 al 15%. Questo, chiaramente, è l'opportunità del ravvedimento speciale e avere, diciamo, c'è la preclusione poi di non trovarsi rettificate le dichiarazioni. Non si è ancora capito per i due anni magari in cui è prevista la rettazione o per sempre, questo poi lo scopriremo solo vivendo, diciamo così. E poi c'è anche un'altra scadenza all'invio della dichiarazione dei redditi. Ecco, perché lo Stato italiano riesce sempre a favorire l'operatività dei commercialisti che in quest'ultimo periodo sono alle prese, con l'ordinario e con lo straordinario, ovviamente. È importante la dichiarazione dei redditi perché l'adesione al concordato preventivo biennale avviene in serie di dichiarazioni dei redditi. È lì che si flagga l'opzione e quindi si aderisce e poi c'è tutto il meccanismo successivo dei pagamenti. Quattro sono le sigle sindacali dei commercialisti che hanno indetto uno sciopero che coinvolge questa data, in particolare dal 30 ottobre al 7 novembre. Quali sono le principali ragioni di questo sciopero? Ma, ripeto, l'ho detto anche in precedenza, abbiamo delle forti perplessità, ma la categoria, non a caso il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha chiesto la proroga. Cioè una richiesta di proroga è un alert. Possiamo fare chiarezza su come operare, su cosa fare, su come tutelare il contribuente, su cosa scaturisce poi da questa adesione. Allora, certamente gli adempimenti vengono comunque gestiti normalmente, comunque si presentano le direzioni di reddito, comunque si producono contabilità, comunque si presenteranno le direzioni IVA, comunque l'ordinario è garantito. A questo si aggiunge la proposta di adesione. Allora, la perplessità qual è? Ma questa proposta di adesione, che ha onestamente scatenato tanti dubbi e tante incertezze, è una tutela reale del contribuente o un'esigenza di fare cassa presto, subito, a tutti i costi e poi si vedrà in progress cosa succederà. Allora è su questo che dobbiamo ragionare. Allora auspicheremmo da parte dell'amministrazione finanziaria una più attenta analisi delle situazioni dei contribuenti, perché noi siamo di fronte ad uno stato di sovraindebitamento un po' generale. Allora è meglio valutare caso per caso che lanciare una procedura standard per poi verificare la riuscita. Questa è la perplessità. In conclusione, prima di salutarci, volevo chiederle anche un consiglio vero per i nostri telespettatori. Come dicevamo, siamo vicini chiaramente a un momento di scadenze. A cosa bisogna prestare più attenzione in questo momento? Sicuramente a presentare le relazioni dei redditi nei termini, pagare le imposte subito possibilmente, evitando magari anche in forma rateale, però in breve tempo. Allora, perché poi ci sono degli effetti un po' nefasti, perché poi tutto passerebbe all'agenzia entrata in discussione, con tutti gli annessi e connessi. Allora, sicuramente seguire bene gli adempimenti ordinari, farli bene e subito, e valutare in prospettiva, perché sicuramente c'è chi ha aderito, neanche il 10% su una platea di oltre di 5 milioni di contribuenti, c'è chi ha aderito, probabilmente qualcuno ha valutato la convenienza di aderire al concordato preventivo biennale, ci viene da pensare, ma allora è una misura studiata per pochi, ma chi ha un fatturato in crescita e chi ha un reddito, sicuramente, e oggi 29 ottobre, può sicuramente valutare, siamo quasi alla fine dell'esercizio amministrativo, può sicuramente valutare la convenienza. Quindi valutare, se c'è un'effettiva convenienza è chiaro che il commercialista non può che consigliare di aderire, ovviamente. Però puntiamo alla corretta gestione dell'adempimento spontaneo e quelle che sono le scadenze fiscali, che sono quelle ordinarie. Ecco, su quelle dobbiamo fare attenzione. Ebbene, io ora ringrazio di essere stato in nostra compagnia. Grazie a tutti, grazie a lei. E quindi ringraziamo ancora una volta Vincenzo Tibi, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. Grazie, buon proseguimento.